mister ci ha fatto stare un po' col fiato sospeso però alla resa dei conti è arrivato questo accordo col presidente benigni beh sì sono contento perché ci può essere continuità devo dire presidente mi ha voluto strenamente questo mi ha fatto piacere abbiamo impostato già un discorso speriamo di fare una buona squadra anche quest'anno e avere una salvezza alla grande come l'anno scorso come mai si era preso quella settimana di riflessione ma no c'erano così nel progetto da vedere alcuni particolari abbiamo trovato dei programmi soprattutto abbiamo trovato insomma l'intesa e poi io sono contento è giusto anche in questa piazza che mi ha sempre dato tanto dove io anche ho dato tanto quest'anno avere un altro anno di continuità mi sembra una buona cosa i tifosi sono contenti perché oltre a lei sono rimasti anche due ascolani doc come a luisi e iachini sì sì lo staff ha lavorato molto bene quindi sono contento anch'io di dar continuità speriamo appunto anche di confermare alcuni giocatori della squadra dell'anno scorso per poter avere una base per il futuro ora si può pensare a calcio mercato prima ci saranno subito le comproprietà e poi bisogna analizzare come rinforzare la squadra partiamo dalle partenze perché guarna e papavai coromai sono l'addio probabile però però ora sono a disposizione nostra comunque è probabile mi sembra anche giusto due giocatori che se avranno la possibilità di fare anche la categoria superiori mi sembra giusto ma comunque abbiamo abbiamo delle conferme alcuni sono già sotto contratto altri spero soprattutto quelli della difesa dell'anno scorso qualcuno che rinnovi e da lì faremo degli inserimenti in ogni reparto naturalmente però ci vorranno degli inserimenti speriamo di fare le scelte giuste si parla un gran bene di questo capece che a lanciano ha fatto ottime cose sì sì lo conosco abbastanza io me lo ricordo più nella primavera però ecco dopo non è si deve inserire si deve inserire e spero possa inserirsi darci una mano però ecco io l'ho visto un paio di partite a lanciano devo dire ma in serie b è tutta un'altra storia quindi spero proprio che mantenga le sue qualità migliorando però magari su alcune cose sarà un mercato mirato ai giovani sia quelli del vivaio che dobbiamo valorizzare sia andare a pescare magari qualche talento in giro non solo no no anzi la base dovrà sicuramente essere quelli non dico di esperti ma dico di personalità poi se avremo qualche giovane magari come piace a me riuscire a trovare qualche giovane di qualità dove sapete io ho i più giocatori tecnici di quelli di grande corsa quindi trovare un mix giusto se troviamo dei giovani fuori che hanno delle qualità ci possono dare qualcosina in più rispetto all'anno scorso su certe cose sicuramente manterremo l'intelaiatura il modulo dell'anno scorso però mettendoci delle novità soprattutto sul piano tecnico sarebbe molto importante dopo alcune stagioni travagliate si partirà solamente con un punto di penalizzazione avete parlato con il presidente dei obiettivi ovvero salvezza tranquillo si può sperare in qualcosa in più no beh dobbiamo ancora formare la squadra non possiamo è vero che l'anno scorso sotto la mia gestione abbiamo avuto una media punti incredibile però sono situazioni forse anche la squadra aveva una mentalità che ci credeva veramente quindi bisogna un attimo vedere che squadra riusciremo a fare però l'importante sarebbe comunque sempre mantenere la categoria poi se riusciremo a fare qualche partita come abbiamo fatto quest'anno cioè qualche bella partita proprio di entusiasmo di corsa di vittorie entusiasmanti speriamo di poter ripetersi come state organizzando il ritiro estivo ma vediamo stiamo decidendo sicuramente faremo una prima fase qui e poi andremo penso a cascia nella seconda parte poi si avvicinerà prestissimo la coppa italia quindi quindi insomma più o meno abbiamo deciso a metà luglio partiremo e poi vediamo le date anche della coppa italia se giochiamo subito oppure il 12 da lì poi ragioneremo so che intende organizzare tanti amichevoli per provare i ragazzi sì perché mi sembra giusto soprattutto del modulo che abbiamo noi può sembrare semplice invece ci sono sempre alcune cose guardate l'italia che le prime due partite ha giocato col 3 5 2 però io notavo che c'erano dei difetti ma non perché perché il modulo ci vuole ci vuole un po di tempo quindi spero che i ragazzi nuovi possano subito inserirsi e capire subito il modulo chiaro che ci sarà l'aiuto di quelli degli esperti quelli dell'anno scorso però avere già le sicurezze qualche sicurezza all'inizio del campionato secondo me è importante un appello anche ai tifosi visto che la società ha fatto uno sforzo massimo silva rimane l'anno prossimo dovranno essere anche loro all'altezza più di quest'anno sì mi hanno gratificato molto sia nei festeggiamenti della salvezza promettendo insomma più partecipazione l'anno prossimo quindi ho visto tanto entusiasmo e anche in questo periodo che non ci mettevamo d'accordo ho avuto tante tanti riconoscimenti anche questo insomma mi ha fatto come dire scegliere ancora la continuità qui ad ascoli e io spero proprio che ci sia ancora più come dicevo l'anno scorso la simbiosi no che se c'è sempre stato al del duca fra tifosi e squadra devo dire nel finale campionato noi andavamo molto forti i tifosi si erano avvicinati di più e quindi sono state giornate veramente molto belle speriamo di ripeterle da subito ora che ha rinnovato lo possiamo dire ci hanno state altre offerte per lei no no ma proprio dirette così no no però ecco volevo un po' verificare anche i programmi ma poi comunque sempre secondario perché tanto ad ascoli una squadra discreta si fa sempre lo spirito è sempre quello sia da parte nostra da parte mia lo spirito battagliero sia al del duca che fuori ci sarà sempre quindi questo è come dire il dna dell'ascoli sempre si lotterà grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti